Quando noi entriamo .f attraverso Francesca R a cura di VB Quando noi entriamo all'interno di uno strumento dobbiamo lasciare una parte dei blocchi informativi quindi è facile che nelle ore successive al nostro parlarvi attraverso questo modo di apparire rimangano queste informazioni che ci servono per allargare progressivamente il canale questo non avviene con uno strumento dove si presentano solo entità affettive in cui la quasi totalità delle comunicazioni che avvengono dopo la manifestazione delle entità affettive sono immaginazioni e creazioni della mente dello strumento Grazie a tutti Grazie a tutti.